OBBRIGADO DEUS! E' SEBAS! Bene ragazzi, carichiamo il modello da FISCAPER Oggi ragazzi, siamo qui per fare un video epico con una delle leggende del calcio più grande di sempre ovvero Roberto Carlos che è un personaggio all'interno del famoso gioco Mini Football che ci ha permesso di fare questo contenuto Grazie! Lo sappiamo, già conoscete il gioco ragazzi ma noi per sicurezza vi lasciamo tutti i link in descrizione per scaricare appunto questa applicazione fantastica di calcio e quindi tra poco ci vedrete all'Opera con Roberto Carlos che magari ci insegnerà le sue tecniche e soprattutto il tiro che lo ha reso famoso in tutto il mondo con le tre dita e quindi andiamo! Roberto! Bene! Come stai? Vieni te? Ti a posto? Sono preparato? Si si! Parli anche italiano eh? Un pochito! Ah perché sappiamo che sei stato all'Inter quindi... bella esperienza no? Grandissimo! Prima di iniziare... Tutti qua! Grazie per il tuo finito! Grazie a te! Grazie! 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 Grazie a te! Grazie a te! Roberto ti diciamo noi facciamo abbastanza... Schifo! Sì! A pallone! 10 minuti di pallone! 10 minuti di pallone! Però vabbè! Ci proviamo! Con la mano non vale! Proprio ti vogliamo domandare... Sì! La cosa che più ti manca dell'Italia... Che ti è bella di più! La pasta! Ah la pasta! Tambiene! Anche questo! Che cosa? Che cosa? La siga! Si ha detto la siga si conferma! Conferma! Poi Roberto... Tu hai vinto tante cose! Sì! Ok! Le 3 Champions Correal e la Coppa del Mondo! Se dovessi scegliere meglio le Champions Correal o la Coppa del Mondo? Coppa del Mondo! Coppa del Mondo sempre! Sì perché... Con Real Madrid... Deve vincere sempre! Però quando tu metti la maglietta della nazionale... Rappresenti la Nazionale! Sì fantastico! Questo è il più bello trofeo che c'è nel mondo! La cosa più bella! Sì! Un'ultima domanda che ti vogliamo fare... Secondo te attualmente... Che è il terzino sinistro più forte in questo momento? Del mondo! Del mondo! A me piace tantissimo Marcello! Marcello! Vinal! Claro che c'è... Teo! Manzelo! Teo! Ha fatto una temporada incredibile! Però Marcello è mio bambino! Il tuo erede! Sì! Beh! Degno erede! Anche Teo! Teo è bravissimo! Ok! Abre il tiro di Roberto Carlos però non ce l'ha nessuno! Però non ci dimentichiamo di una grande leggenda! Mario Rui! Mario Rui! Mario Rui! Sì sì! Il maestro lo chiamiamo! A Napoli lo chiamiamo il maestro! Maestro! Quanti anni? Quattro cinque anni nel Napoli no? Sì sì! Sì sì sì! Bravissimo! Vabbè se non hai capito noi siamo tifosissimi del Napoli! Sono interista! Ahhhh! Eh vabbè! No vabbè! L'accettiamo! Roberto là ti facciamo vedere un po' il nostro livello! Ok! Con i piedi non siamo fortissimi però magari tu potrai darci degli insegnamenti! Andiamo! Dai! Proviamo a fare il tuo tiro di esterno! Ok! Sempre esterno! Sempre esterno! Dobbiamo provare a fare il tiro di esterno! Vado! Sì ragazzi! C'è qualcosa da migliorare però! Si rinforma! Eh! È favore! È bene è bene! Vai! Approva Antonio! Mister! Dai! Provo io! Provo io! Con la schierta! Lui è Mancino eh! Sì sì! Però Mancino! Provo! Vai! Dai! Eh! La porta alla presa eh! Massimo o meno! Come sta avendo? La mia pontazza! Vai! Vado! Puntazza! Vai! Bravo! Puntazza! C'è qualcosa da migliorare qui Roberto eh! Molto da migliorare! Non poco! Molto! È Romario! È simile a Romario! Saluto a Romario! Magari! Mirko sei Romario! Romarigno! Romarigno! Un brasiliano no? Ora però ci devi insegnare tu come veramente tirare con il destro sinistro e il destro esterno soprattutto! Roberto però prima facciamo un'altra sfida anzi devi fare un'altra sfida! Come sapete nell'applicazione di minifootball c'è anche ora il personaggio di Roberto Carlos che vediamo somigliante al massimo! Che bello! Quindi Robè devi tirare devi passare! Cioè ci devi fare! Molto forte eh! Non diamo di sprint! Facciamo uno sprint dai! Ma lo sprint è uguale! È uguale! Sì sì troppo bello! Vai! Va a tirare! Tira tira! Sì! Primo! Primo! Potevi giocare anche con lui! Grazie per giocare con me! Quindi primo link in descrizione! Scaricato! Ma ora torniamo alle sfide! Vai! Allora beh come hai visto non siamo tanto bravi a calciare da esterno quindi se ci puoi insegnare la tecnica visto che sei diventato famosissimo per questo grande tiro! Eh! Faccio dentro il tuo piede! Sì! Proviamo proprio meno! Proviamo? Sì! Dai! Vado io prima! Facci vedere io! Sì! Va bene dai! Proviamo! Sì sì! Vai! Una! Se non mi rompo! Un altro! Allora ci devi dire io sono destro! Che parte del... Proprio questo punto qua! Non quella puntera! Quella puntera non! Qua! D'esterno proprio! Ok! Allora mi concentro più sulla scarpetta che sul pallone! Dove devo mirare? Agli alberi! Eh! Lì! No! Miro di là! Per tirare l'esterno! Ok! Vai! Forse un po' troppo agli alberi! Però beh! Però... Ci servono più lezioni! È stato forte! Vero come insegnante! L'intenzione era buona! Ok! Con la palla andata buona! A testa alta! Prova lui di schierda! Di sinistra! Vai! Che lui è mister e sinistra è molto più bravo! Vai Anto! Vai vedere il napoletano che è in te! Mister! Mister! Anto! No! Quasi! 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 Sorprendici! Sì! Vai Robè! C'è! C'è! Esterno c'è! Adesso Micco vai! No pontazza! No! Esterno! Ultima tre dita! È il tuo insegnamento? È il tuo insegnamento questo! Il tuo insegnamento! È il suo insegnamento questo! Io non ho fatto niente! È stato solo... MADON! Incredibile Roberto! Il passetto, tanto è il passetto. Il passetto. Buona, buona, buona. Va bene, va bene. Va bene, il gol c'è, il gol c'è. Poi io non ci so. Devo fare bella figura con Roberto Carlos, che fino a ora non ho fatto bella figura, insomma. Andiamo a fare gol. Robi, ci sei? Buona, buona. Obrigado Deus! Faccio l'ultima io raga. Sono andato male, sono andato male. Bravo. Buono, buono, buono. È entrata, un po' centralina però è entrata. Sì, però il portiere era... Il portiere non c'è, è assente, è un fantasma. Vai. Una. Vai Anto! Mister... Apre centrale, Anto. Però d'esterno ci sta. Uno a zero per noi. Uno a zero? Uno a zero. Dai, uno a zero. Di corto muso, di corto muso. Vai, gli ultimi due. Ancora. Se c'era il vertiglio era gol. Dieci punti, dieci punti. Ultimo al esterno, prova. Vai, l'ultima, l'ultima. Vai lì! Ohhhh! Incredibile! È girato, è girato. È girato, è girato. È girato, è girato. Vabbè, allora, ci devi dare un voto da uno a dieci, mister Mirko e io penso zero. Dieci. Dieci. Dieci più dieci. Io dieci. Tre dieci. Siamo amici adesso. È vero, è vero, è vero. T'abbiamo fatto un grandissimo lavoro. Ti avrei voluto a scuola come professore. Eh. Tu come professore dai sempre dieci a scuola. Sì. Quindi un buon professore. Sempre così. Ragazzi c'è un regalo per voi. Guardate qua la maglietta di Roberto Carlos. Ma c'è una sorpresa firmata da lui. Se volete vincere questa fantastica maglietta cosa devono fare Anto? Devono passare in descrizione e soprattutto sul profilo Instagram di Mini Football. Seguire tutte le istruzioni e potete averla direttamente a casa vostra. Vabbè, questa maglia cosa ti ispira? È bella? È colore del mio nazionale. Brasile. Poi c'è anche il tuo nome, quindi è importante. Eh. Vai. Ok. Quindi ragazzi mi raccomando vi lasciamo in descrizione Mini Football perché ancora non l'aveste scaricata. Scaricata da tutti per questa app di calcio fantastica. Ringraziamo Roberto. Grazie. 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 Obrigato. Ci vediamo presto. E lasciate un bel mi piace, un bel commento e iscrivetevi al canale. Non ci rivecchiate al prossimo video. Bella ragazzi. Ciao. Ciao.